Con la fine ormai imminente della legislatura sembra ormai certo che Luciano D'Alfonso resterà la presidenza della regione fino alla scadenza naturale del mandato. Sullo suo futuro politico il governatore ha parlato questa mattina a margine della conferenza stampa convocata per illustrare il progetto di uno skate park, parco attrezzato con piste e rampe per skateboard e pattinaggio da costruire nella città di Pescara. Credo che mi stiano risolvendo il problema da Roma perché io sono stato in Senato quattro volte dalla stampa che ho letto di ieri e di oggi mi dicono che la legislatura sia finita. Non ho fatto neanche a tempo a comunicare le mie intenzioni. Quello che è certo è che a Pescara faremo la pista di skateboard e spero che a Roma almeno la seduta di domani si possa tenere. Io sono pronto per oggi e per domani, ho anche studiato un fascicolo importante, spero di poter prendere la parola. Voglio capire in ordine con esattezza quello che accade domani al Senato perché domani avremo una giornata importante, dovremo votare la ratifica di un provvedimento significativo riguardante l'Italia, tra gli argomenti c'è anche l'Alitalia. Mi auguro che ci sia una condotta responsabile da parte di coloro i quali dovranno votare. Io vado per adempiere all'obbligo, all'impegno, alla responsabilità del voto perché voglio che questo tema dell'Alitalia abbia una copertura legislativa. Però mi dicono che ci sarà conflitto. So anche che siamo in attesa di una comunicazione nazionale che ci dica qual è il giorno di scioglimento delle Camere, per cui tutto questo naturalmente condiziona anche il mio cammino dal punto di vista istituzionale. Come sanno tutti gli abruzzesi non ho rinunciato ad un giorno di lavoro. Anche oggi sto operando qui, poi vado in provincia per quanto riguarda la Mare Monti possibile e poi parto per il Senato. Presidente, qual è il suo giudizio politico su questa diatriba tra il Presidente della Repubblica, Mattarella da una parte, Lega e Cinque Stelle dall'altra? Vedo la cancellazione di ogni limite. Sono molto preoccupato. Spero che si determini di nuovo una condizione di pubblica opinione capace di stabilire chi sbaglia e chi indovina. Personalmente ho molta fiducia nella condotta avuta e chi avrà il Presidente della Repubblica. E farò l'impossibile nel mio ruolo di supportare il valore della condotta del Presidente della Repubblica. Io non faccio parte solo di me stesso, sono parte di una comunità politica, deciderà la mia comunità politica. Se potessi decidere vorrei mettermi a studiare, ho un bellissimo patrimonio librario che vorrei riprendere a studiare per capire anche quello che sta accadendo e perché sta accadendo tutto in questa parte di Europa e in Italia in questa fase. Questo è il mio desiderio. Io sono nipote di un minatore balbuziente che è andato a lavorare per il mondo e dopo due generazioni il nipote di questo operaio, minatore balbuziente, fa il Presidente della Regione e anche il Senato della Repubblica. Diciamo che sono molto molto soddisfatto. Sono tanti anni che ormai mi dedico e l'ultima vicenda, quella riguardante la contestazione, la giuridicizzazione di Rigopiano, mi ha fatto molto male perché io ho dedicato tanti anni della mia vita alla cultura della vita. Essere associato alla cultura della morte mi ha fatto molto male e non vedo l'ora di trovarmi gli interlocutori davanti, coloro i quali devono stabilire chi si è comportato bene e chi no. E sentirete quello che dirò.